Dalle escursioni notturne al pulo di Altamura con la possibilità di pernottare in tenda all'osservazione dei volatini nel centro storico di Altamura e ancora i concerti di Nicola Conte dei Subsonica. Dal 29 giugno al 1 luglio il Parco Nazionale dell'Altamurgia si lascerà scoprire ed apprezzare con un evento che promette di sorprendere turisti e gente di casa nostra. Stiamo parlando di UP, così è stata denominata la manifestazione presentata a Bari nella sede del Consiglio regionale. Un'occasione per valorizzare il territorio e promuovere il marchio del Parco. Ricco il programma della festa che spazierà dal divertimento puro con appuntamenti ludici ed enogastronomici alla cultura. Numerosi infatti workshop organizzati nei tre giorni dell'evento ad Altamura. Incontri che affronteranno il tema del turismo sostenibile puntando alla destagionalizzazione e alimentando il Made in Puglia. A sottolinearlo il presidente del Parco dell'Altamurgia Cesare Veronico. Per noi è molto importante portare il parco nelle città. Ci siamo resi conto che dobbiamo stringere la relazione tra gli abitanti dei comuni e farli diventare abitanti del parco e quindi questa iniziativa prelude ad altri incontri che terremo in tutti i 13 comuni dei parchi. Ma oltre alla festa l'attività del Parco dell'Altamurgia è in pieno fermento grazie ad una serie di fondi messi a disposizione dalla regione come ad esempio 6 milioni di euro per l'efficientamento energetico e 600 mila euro per un progetto pilota sulla valorizzazione dell'aria. Su questa linea si dovrà ancora lavorare, ha garantito l'assessore regionale alla qualità del territorio Angela Barbanente, per far viaggiare sulla stessa strada conoscenza, tutela e valorizzazione. Il parco deve essere vissuto e la sfida che noi abbiamo di fronte è che i parchi diventino modello di uno sviluppo diverso, siamo in una fase di crisi drammatica, abbiamo bisogno di costruire modelli alternativi di sviluppo.